Da una parte malpensa, dall'altra Accam. Legambiente non fa sconti, invoca maggior coinvolgimento e chiede che la ragion pratica non sacrifichi habitat e salute pubblica. Sullo sviluppo dell'aeroporto, il Cigno Verde si oppone alla linea T2 Gallarate. Ma perché? Intanto perché non c'è una certezza sui flussi di traffico. Noi questo l'abbiamo sempre, sui flussi di passeggeri, l'abbiamo sempre richiesto e in realtà non c'è mai stata data una risposta. Quindi quanto serve quella ferrovia all'aeroporto? Perché questa è la domanda fondamentale. Perché si deve costruire quella linea ferroviaria? Noi siamo per le linee ferroviarie, per i nuovi, per un trasporto sempre più dedicato al ferro. Certo però bisogna avere un obiettivo chiaro. Sostanzialmente una risposta che possa farvi cambiare idea è legata a contesti oggettivi. Diciamo che sono i numeri di sicuro, ma perché almeno si ha una base di partenza per capire davvero se quell'opera ha un senso. L'altro problema è legato al tracciato. C'è una possibilità di fare l'opera in modo diverso evitando, perché noi lo sappiamo, quando si fa un'opera non è solo il tracciato dei cosiddetti binari, in questo caso, che vengono posati, ma è anche l'attività di cantiere che ha una sua importanza. Ecco, allora dobbiamo andare a incidere in un territorio delicato, in un lembo di bosco che ancora c'è e quanto è prezioso per un territorio che appunto poi va verso Malpensa. Allora noi chiediamo anche che ci sia un'opera che davvero sia il più sostenibile possibile. ACAM, cioè la società che gestisce l'inceneritore di Borsano, Bustarsizio, il cui destino sembra sempre appeso a un filo, ma poi tutte le volte viene riaffermato e buttato un po' più in là. Ma noi abbiamo sempre detto che vogliamo la chiusura, volevamo prima e vogliamo la chiusura dell'inceneritore anche oggi. La realtà ci dice che è stato messo in campo una prospettiva diversa. Allora sulla prospettiva diversa che è quella verso l'economia circolare, è certo che guardiamo con interesse quel pezzo che si sta strutturando, ma se deve essere il solo salvataggio dell'inceneritore, se è solo, fosse solo così, salviamo l'inceneritore perché fa business, perché comunque i rifiuti ancora ci sono anche portati dall'esterno, ecco allora lì vede la nostra contrarietà più netta. Se invece il percorso si delinea come, come dire, un'azione verso il futuro, che salvaguardi l'impianto e anche i posti di lavoro, perché ovviamente stiamo parlando di quello, che trasformi quell'impianto davvero in economia circolare, quindi nelle ulteriori divisioni delle frazioni, ad esempio in una combinazione con l'impianto di legnano, della forsu, della produzione di compost dopo il biogas. Ecco, se ci fosse una serie di combinazioni, che noi abbiamo letto per il momento solo sulla carta, spostate nel tempo di almeno dieci anni, potremmo anche, come dire, essere un tantino più magnanimi riverso quell'impianto.